marzo 1945 l'ordine di conquistare il ponte di remagen con la nona corazzata il 99 fatto questo ai cruchi resterà solo la fuga vorrei tanto essere insieme a esel quando nascerà il bambino ma devo convincere parson a rimandarmi a combattere devo trovare zeus lui farebbe lo stesso per me se non dovessi tornare abbi cura di loro cosa sei venuto a fare secondo te a suicidarti fossi in te non c'è andrei pierson è fuori di sé ok grazie ti avevo detto di levarti dalle palle io andrò a prendere zius ma dildo al cappellano perché non voglio un secondo incapace di eseguire gli ordini nemmeno lei li ha eseguiti rifiutando di abbandonare i suoi a cassarin che cazzo gli ha appena detto ha sentito vattene finché puoi farlo con le tue gambe l'ha detto davis non è stata colpa sua lei ha agito per il bene del suo plotone va via subito io non mi muovo ho detto fuori porca puttana avevo l'ordine di ritirarmi ma dovevo dimostrare qualcosa avevo detto che ho difeso questo passo fino all'arrivo dei rinforzi che non sono mai arrivati mai arrivati quindi hai ragione li ho fatti morire ora va non senza il mio plotone pensi di avere fegato però va a fare il tuo lavoro mentre i tuoi uomini cadono come mosche ogni giorno tarner non si sarebbe mai avviso tarner è morto dia un senso alla sua morte al suo sacrificio tu non sei un cazzo di sacrifici è questo congedo con onore firmato da davis tornavo a casa potevo avere tutto un accoglienza da eroi la mia ragazza tra le braccia una stella di bronzo ma ho un'ultima missione tu sei un pazzo fosse solo pazzo informazione sergente informazione cazzo vuoi farlo questo è il momento vedi di levarti dalle palle vedo che ci siamo tutti non tutti prendiamo quel ponte troviamo zios ma si caporale se zios ma ne vivo è oltre quel ponte dobbiamo conquistarlo d'accordo ci siamo l'ultimo ponte sul reno se questo convoglio passa apriremo il fronte lì divideremo la vola spagna siamo all'atto finale corso con me andiamo dobbiamo prendere l'ingresso del ponte si sergente forza ehi non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità può starne certo andiamo il convoglio darà copertura mentre avanziamo verso il ponte avversi andiamo tutti al ponte non fermatevi addasso il ponte è in alto avanti non faranno saltare questo ponte avanti attenzione il fuoco da quelle corri avanti 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 Sìììì! Grazie a tutti! 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 Guarda con me! Andiamo al ponte! Grazie a tutti! Schierano l'impossibile! Teneteli occupati! Noi pensiamo alle cariche! Bene! Andrò avanti mentre Daniels e Stiles proteggono i genieri! Pronti? Forza, andiamo! Voi due! Voi due! Non disinnesco io! Mi stanno ritirando! Usa una granata! Vanno esplodere il ponte! Chi è morto! Chi è morto? Chi sei ancora? Il ponte è attenuto! Ha tenuto! hanno ammazzato i loro compagni! Stupidi bastanti! In piedi! Muoversi! C'è ancora molto da fare! Sparano! Ascoltate! Aeri! Stuka! Ascoltate! Vogliono fabbattare il ponte! Il ponte è attenuto! Ha tenuto! Hanno ammazzato i loro compagni! Stupidi bastanti! In piedi! Muoversi! C'è ancora molto da fare! Sparano! Puoi segnalare i bersagli per i mortai! Ascoltate! Aeri! Stuka! Arrivano! Abbattare il ponte! Via! Dobbiamo andarsene! Rucchi e i valini! Aiello! Dov'è il fumogeno di segnalazione? Aiello! Dov'è il favorable? Sì? 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 Ah! Oh! Sì, ho granate fumogeni! Granata! La testa di punta è barricata! Troppe nemiche! Mi dica dove si trovano! Finisce il lavoro alla torre! Vai subito alla fine! Non si servono! Non si servono! Buon appetito! Qui ho granate fumogeni! Non si può fare! Ghiaccio! Puoi segnalare i versetti per i portai! Tutti sistemati! Quegli aerei distruggeranno il ponte! Prendiamoci quella contraerea! Daniels, Howard, con me! Muoversi, dai! Qui ho granate fumogeni! Lancia una granata! Fumogeni e fuoco di sbarramento! Butto una granata fumogena! Alle trincee, muoversi! Prendiamoci quella contraerea! Daniels, usa quell'arma antiaerea! Daniels, usa quell'arma antiaerea! Proteggi quel ponte! Sinistra! Colpito! Continua a sparare! Colpo diretto! Ore una! Ottimo, Daniels! Puoi farcela, Daniels! Colpo diretto! Addosso! A sinistra! Daniels, ti hanno visto! Colpo diretto! Colpito! Continua a sparare! Ore dodici! Centro! Perfetto! Ecco i nostri aerei! Ci colpiranno con tutto quello che abbiamo! Non è finita! Voi due, con me! Un fumogeno di segnalazione! Daniels, ho granate e fumogeni che aspettano te! Giro, una grifata! Sono in fuga! Bravo! Ripiegano dentro il tunnel! Muoversi! Dai, dai! Capitano con l'ordinello! Possiamo colpirli con volta! Provo con una granata! Temici in vista! Stanno uscendo! Non sparate! Ho detto non sparate! Si arrendono! È finita! È finita! Il punto è nostro! Caporale Howard Credo di doverle delle scuse Mi devi molto più di questo Siamo stati grandi! Abbiamo fatto la storia! I primi oltre il re! Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionie in questa zona Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione Prima di andare a controllare Ma sapete che farvene degli ordini di Davis? Sì, sergente Perfetto Il mio plotone ha attraversato per primo il reno Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania Ormai la guerra è vinta Ma non per me Non finché Zius è là fuori Dopo aver lasciato il ponte nella missione a Est Abbiamo perlustrato i campi lungo la strada Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità Mi sbagliavo Ma di sicuro Non scorderò mai quello che ho visto I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri Tra cui Ziusman Erano stati portati in un campo più piccolo a tre ore da lì Potevo solo sperare che fosse ancora vivo Ultimo Mi sembra un campo di lavoro Forza